Variante di Ponte Nosso, il punto con l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi. Alto Sebino incontra con la stampa e i sindaci del territorio chiedono un'ambulanza di dimensioni ridotte capace di imboccare le vie strette del territorio. Quest'anno si registrano meno malanni tra i bambini? Abbiamo chiesto conferma di questa impressione a un pediatra del territorio. Buonasera e ben ritrovati con il tre giornale di Antena 2. Iniziamo dai dati di Regione Lombardia sulla diffusione delle coronavirus. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva meno 22 e nei reparti meno 109. A fronte di 10.587 tamponi effettuati sono 950 nuovi positivi a percentuale dell'8,9%. I guariti dimessi sono 8.376, i decessi 41. I nuovi casi positivi al coronavirus per provincia Bergamo 72, Brescia 157. La variante inglese del coronavirus ha suscitato un'ulteriore risposta del sistema sanitario del nostro paese. L'assessore alla welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha dichiarato che le ATS della Lombardia procederanno in questi giorni a contattare per effettuare il tampone ai 1.500 cittadini che hanno dichiarato di essere stati in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord a partire dal 6 dicembre scorso. Coloro i quali ancora non avessero eseguito l'autosegnalazione troveranno l'apposita modulistica sui portali web delle stesse agenzie per la tutela della salute. A seguito della dichiarazione online, aggiunge Gallera, agli interessati verranno comunicati direttamente le coordinate per l'esecuzione delle teste molecolare oltre alla modalità di consultazione dell'esito. Le indicazioni, spiega Gallera, richiamano quelle messe in atto durante i mesi estivi per i cittadini in arrivo o al rientro dall'estero. Lo screening è utile per individuare e isolare eventuali positività e anche per accertare se vi sia la presenza, finora non rilevata, della variante inglese del coronavirus. Invitiamo tutti i cittadini interessati quindi, conclude l'assessore, alla massima collaborazione. E nei giorni scorsi siamo tornati ad occuparci della variante stradale Clusone-Ponte Nossa, un'opera attesa da anni sul nostro territorio. La speranza è che con i fondi destinati al nostro paese ci sia la possibilità di inserire opere strategiche anche per la Val Seriana. Nicola Androletti ne ha parlato con l'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudio Maria Terzi. La scorsa settimana in Consiglio regionale è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno dedicato alla progettazione preliminare della variante Ponte Nossa-Clusone che bypasserà il nodo delle curve della selva. Tra Piano Lombardia e Recovery Fund c'è la possibilità di trovare fondi anche per quest'opera strategica. Non ci siamo risparmiati, non ci risparmieremo. Come sapete abbiamo anche dalle parti della Val Seriana risposto ad un'esigenza, una richiesta d'aiuto che arrivava dalla sindaco di Cerete e abbiamo finanziato anche la variante di Cerete anche se in realtà carta alla mano forse competeva più ad ANAS che a Regione Lombardia ma l'abbiamo comunque fatto. Anche in questo caso l'ordine del giorno che è stato sottoscritto da tutti i consiglieri del territorio è stato approvato proprio per, come posso dire, iniziare una discussione e un ragionamento serio rispetto a un'esigenza che è lì scritta, è lì visibile ed è lì tangibile insomma per quel territorio e quella parte della Val Seriana. Ora siamo ad uno stadio che non è quello certo della progettazione definitiva o esecutiva o definitiva ma, come ripeto, l'idea e l'obiettivo dell'Odg, dell'ordine del giorno, era proprio quello di dire guardate che tra le tante esigenze della Val Seriana c'è soprattutto questa, non dimentichiamola, mettiamola tra le priorità delle priorità di intervento. In questo senso direi che l'ordine del giorno ha proprio spiegato il suo effetto. Ordine del giorno, ripeto, sottoscritto sia da maggioranza che da opposizione, questo rende un po' l'idea di quanto sia poi anche positiva la collaborazione tra tutti i soggetti dei vari partiti che quando ce n'è bisogno e quando ci sono delle necessità oggettive per i territori si spogliano dalla loro giacchetta e anche dalle battaglie politiche e le condividono e le portano avanti. Conferenza stampa questa mattina a Lovere con la presenza di diversi primi cittadini dell'Alto Sebino gli amministratori chiedono un'ambulanza di dimensioni più ridotte e adatta anche ad alcune strette vie del territorio. Nei comuni dell'Alto Sebino vi sono strade che a causa della particolare conformazione del territorio e dello sviluppo storico degli abitati non consentono il passaggio delle ambulanze specialmente dei modelli più recenti rendendo pressoché impossibile garantire il servizio di assistenza in modo tempestivo. All'overa la situazione riguarda alcuni vicoli e vie del paese via Davine in modo particolare è interessata da un annoso problema relativo alla viabilità e alla sicurezza. Secondo quanto ricorda l'assessore lavori pubblici delle comune di Lovere Giovanni Guizzetti negli anni l'amministrazione comunale ha intrapreso tutte le valutazioni possibili per addivenire ad una risoluzione definitiva del problema vagliandosi a studi commissionati dall'ente che un progetto di allargamento della strettoia di via Davine presentato da un privato cittadino. Tutte le considerazioni che ne sono scaturite non hanno dato garanzia di successo a causa di insommontabili problematiche di natura tecnica o per gli scarsi risultati a fronte di costi ingentissimi a carico del comune. Per tale motivo, spiega il sindaco Alex Pennacchio è stata prevista la sperimentazione di un impianto semaforico che unitamente alla modifica della viabilità possa scongiurare i disagi derivanti dall'incrocio delle auto. L'altra strada è quella anche di equipaggiarsi con una ambulanza dalle dimensioni tali da non essere ostacolata dai percorsi più stretti. Quindi questa sperimentazione durerà circa 90 giorni poi se gli esiti saranno positivi provvederemo con l'installazione di un impianto fisso. Abbiamo già chiesto i preventivi il lavoro si dovrebbe aggirare attorno ai 30.000 euro. Sì, diciamo che anche questo è un tema che si sta discutendo da molto tempo era già stato affrontato circa 4 anni fa ma poi era stato accantonato per un problema di omologazioni che sembravano non fossero possibili su dei mezzi ridotti e quindi su dei mezzi che non fossero le ambulanze standard che hanno delle dimensioni abbastanza ingombranti. Recentemente ho avuto modo di contattare Areu quindi sono riuscito a mettermi in contatto con i vertici di Areu ai quali ho spiegato la situazione della criticità di questo territorio che è una criticità che non riguarda solo l'overe ma riguarda tutto il territorio dell'Alto Sebino per un discorso di conformazione del territorio oppure del tessuto urbano dei piccoli borghi. Da parte di Areu ho trovato grande disponibilità devo dire a aiutarci a risolvere questo problema e quindi l'ipotesi di poter avere in dotazione un'ambulanza che permetta di raggiungere tutti questi luoghi che al momento sono irraggiungibili si è fatta più vicina e quindi sembra sia realizzabile. Rispondiamo sicuramente dando il giusto supporto come sempre facciamo perché crediamo veramente nella sinergia di questi comuni anzi approfitto per ringraziare Alex il sindaco di Lovere perché noi comuni di Mitrofi e comunque non interessati direttamente dall'ospedale nel senso che non l'abbiamo sul territorio ma siamo interessati indirettamente proprio per il fatto che comunque serve anche i nostri comuni e non possiamo far finta di niente quando il buon Alex Pennacchio ci sollecita e ci aggiorna sulle eventuali problematiche. In questo caso pur essendo un paese piccolo il mio c'è un paio di stradine che effettivamente hanno questo problema delle ambulanze fuori standard diciamo quindi non è un problema da sottovalutare perché poi quando succedono e sono successe anche di recenti delle necessità di dover accedere a delle utenze o comunque sia dei pazienti e non si riesce ad arrivare con l'ambulanza veramente oltre ad essere grave è anche molto penoso. L'impegno è a promuovere questa iniziativa lodevole per dotare la nostra Croce Blu di un'ambulanza in più che sarà necessaria e importantissima per tutti quei nostri piccoli borghi, centri storici dove è difficile accedere perciò l'invito sarà a tutti i nostri cittadini associazioni, imprenditori per contribuire, per accogliere i fondi necessari per l'acquisto di questo strumento che permetterà a tante persone di essere salvate di essere aiutate. Ieri si è spento un clusonese noto sia per l'attività professionale sia per i trascorsi amministrativi di sentiamo Vladimir Lazzarini Cordoglio a clusone per la scomparsa dell'architetto Gianni Barretti persona conosciuta per la sua attività professionale e amministrativa aveva 69 anni ed è morto all'ospedale di Piario dove era ricoverato da alcuni giorni negli anni 80 era stato assessore all'urbanistica dell'amministrazione Merletti e nei primi anni 90 sempre assessore con l'amministrazione Ercoli la sua lunga carriera professionale lo aveva portato anche all'estero ha realizzato progetti in diversi paesi in particolare a Praga nella Repubblica Ceca nel 2017 aveva rilevato lo storico supermercato Testmark di cui aveva curato il progetto di riqualificazione e ampliamento a clusone il suo nome è legato al progetto di riqualificazione di Piazza della Rocca a Bergamo aveva curato il progetto di restauro del Palazzo del Podestà lascia la moglie e una figlia la salma è composta presso l'abitazione di Via Milano a clusone il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle 14.30 nella Basilica di Clusone e parlando con alcune persone che lavorano nel mondo della scuola e con i genitori emerge un'impressione dall'inizio dell'anno scolastico pare che i bambini si stiano ammalando di meno abbiamo chiesto come stanno le cose a un pediatra Fabrizio Zelaschi che ci fa anche il punto sulla vaccinazione per i bambini relativa al territorio dell'Alta Valle Seriana e della Valle di Scalve Comincerei dalla campagna di vaccinazioni anti-influenzali per i bambini come è andata? Bene è andata molto bene giusto venerdì abbiamo concluso quel percorso che era iniziato a metà ottobre con la programmazione e non abbiamo avuto nessun tipo di intoppo abbiamo iniziato a vaccinare in Val di Scalve alla fine di novembre per poi proseguire qui a Rovetta e a Clusone tutto è andato alla perfezione grazie un po' alla nostra organizzazione grazie anche alla location che ci è stata offerta dall'amministrazione comunale di Rovetta e di Clusone che sicuramente dobbiamo ringraziare in quanto sono luoghi ideali per le vaccinazioni di massa un grazie doveroso dobbiamo rivolgerlo anche ai volontari della protezione civile di Vilminore Rovetta e Clusone i quali hanno secondato le nostre richieste e hanno messo in campo la loro esperienza e la loro professionalità nel gestire l'afflusso dei pazienti ai nostri ambulatori abbiamo vaccinato oltre 1300 bambini con grande soddisfazione anche dei genitori per come abbiamo organizzato la cosa abbiamo avuto un percentuale interessante anche molto buone nella corte di bambini tra i 2 e i 6 anni corte che eravamo stati chiamati dall'ATS a vaccinarli una percentuale che si aggira intorno al 70% in corso d'opera abbiamo iniziato anche a vaccinare i bambini ai ragazzi chiamiamoli così sopra tra i 6 e i 14 anni qui la percentuale è nettamente più bassa questo anche forse per colpa nostra perché abbiamo investito poco tempo nell'informazione del resto Regione Lombardia ha ritardato la consegna dei vaccini e anche questa novità ci è stata detta solo tardi per cui non siamo riusciti a raggiungere a raggiungere tutti comunque siamo estremamente soddisfatti l'impressione anche parlando con genitori chi vive la scuola vive le scuole dell'infanzia i nidi e che quest'anno i bambini si siano ammalati meno che in precedenza finora è vero che spiegazioni possiamo dare non è un'impressione è una realtà giusto nei giorni scorsi stavo confrontando una settimana del mese di dicembre dell'anno scorso con quella di quest'anno se l'anno scorso vedevo 25 bambini con una sintomatologia febbrile o tosse o quant'altro quest'anno il numero si è ridotto drasticamente abbiamo dimostrazione di questa riduzione delle patologie anche dalle patologie correlate alle pollinosi stagionali meno crisi d'asma meno problemi di respirazione in età pediatrica questo è dovuto agli sforzi che sono stati fatti sicuramente dal personale scolastico ma anche dai genitori per mantenere nel mantenimento delle distanze e soprattutto dell'igiene dell'igiene del bambino e nei giorni scorsi ci siamo occupati dell'installazione della prima eco-isola a Val Bondione per questo progetto da regione Lombardia sono in arrivo 40.000 euro ecco siamo al telefono con la prima cittadina di Val Bondione Romina Riccardi dalla regione Lombardia avete avuto notizie relative alla possibilità di vedere finanziato l'intervento relativo all'eco-isola esatto abbiamo ricevuto questa bellissima notizia che è un po' di regalo di Natale la regione Lombardia ci finanzierà chiaramente a fondo perduto un'eco-isola per un totale di 40.000 euro la cosa mi rende veramente felice perché avevo contattato l'assessore al turismo di regione di Lombardia Lara Magoni proponendole questo progetto perché chiaramente oltre ad avere un'importanza a livello ambientale lo ha anche per quanto riguarda un'impronta turistica la Magoni è stata entusiasta del progetto e quindi l'ha proposto con un ordine del giorno al Consiglio di venerdì 18 dicembre il sabato c'è appunto arrivata questa bellissima notizia c'è stato dato un contributo di 40.000 euro quindi nell'anno 2021 noi avevamo già in previsione di acquistare un'eco-isola quindi sulla scorta di questa maggiore entrata prevederemo di acquistarne addirittura due una quella che avevamo già previsto di acquistare e chiaramente anche la seconda grazie al contributo in modo appunto da velocizzare questo progetto che prima si realizza prima riusciamo ad estenderlo insomma a tutta la popolazione e a far partire tutte le varie contrade al progetto dell'eco-isola torniamo sull'Alto Sebino ora ci occupiamo di turismo abbiamo raccolto le prime impressioni sul bilancio 2020 di questo territorio sentiamo Andrea Zandonai dell'Infopoint Alto Sebino non è difficile per il turismo luci e ombre anche all'overe esatto questa estate il trend è stato tutto sommato positivo si è partiti un po' in sordina visto che eravamo freschi freschi dal primo lockdown le presenze poi sono state davvero numerose nei mesi di agosto e anche di settembre buono il flusso ad ottobre e ci sarebbero state comunque tutte le premesse per avere un ottimo novembre visto che il tempo è stato stupendo temperature miti invece sappiamo cosa è successo è una situazione che sicuramente penalizza in tutta Italia il turismo e nel nostro caso specifico il lago di Zeo che è comunque sempre registrato un notevole numero di presenze nel mese di dicembre grazie anche ai giochi di luce gli eventi sul territorio le piste da sci vicine nel weekend appena trascorso un po' di gente si è mossa abbiamo visto bar pieni i ristoranti che comunque hanno lavorato le strutture recettive hanno registrato proprio i primi turisti i primi i primi pernottamenti certo è che le misure governative imponendo forti restrizioni proprio per contenere l'epidemia daranno e avranno degli effetti fortemente negativi sull'economia locale quindi sulla movimentazione delle persone sappiamo però che sono misure volte proprio a tutelare la salute di tutti e speriamo e confidiamo che il 2021 parta con uno slancio migliore e si possa poi godere appieno del nostro territorio nell'estate del prossimo anno domani sera alle 20.30 torna in onda la rubrica di pareri d'opinioni locali il sasso nello stagno cura del nostro Tony Tranquillo grazie per la linea amici del telegiornale siamo qui da Gandino dove andrà in onda questa settimana il nostro sasso nello stagno dedicato all'Atalanta e in particolare alla ferra Gasperini Papu Gomez sembra che ci sia stata anzi ormai è chiaro ci sia stata tra di loro una frattura e vogliamo chiedere agli atalantini dove porterà questa frattura a una separazione tra il Gomez e la squadra di Bergamo cosa vogliono i tifosi che si torni appunto a giocare ad essere amici e tornare insomma in campo insieme oppure proprio da una parte Atalanta continua la sua storia dall'altra sentiremo un sacco di interviste per il nostro appuntamento domani sera alle 20.40 adesso ve ne regaliamo una in anteprima ma c'è qualcuno che dice che le liti più grosse si faranno fra le persone che più si amano sicuramente fra i due c'è una grande stima in questi anni l'uno ha fatto la fortuna dell'altro perché è evidente che Gomez è stato uno dei maggiori campioni che abbiamo avuto a vestire la maglia nero-azzurra ma è altrettanto vero che Gasperini è stato uno dei più grandi se non il più grande tra gli allenatori che hanno fatto grande la Dea e quindi è un doubt des che a volte può anche arrivare allo scontro probabilmente in una situazione anche nervosa fine del primo tempo con i danesi quando non si vince dall'altra parte Sandy Clayax stava pareggiando con il Liverpool e quindi di rischiare di avere un dentro fuori ad Amsterdam costretto a vincere qualche nervosismo forse qualche parola fuori posto da uno o dall'altra parte francamente interessa poco e si è arrivati un po' alla lite ma secondo te i tifosi sono per una ma dai facciamo la pace un no fine la storia ciao che parte stanno i tifosi l'impressione è che Bergamo sia un paese netto un paese una città netta nei giudizi netta nel prendere le parti di uno o dell'altro ma non sia mai definitiva credo che in questi anni ce l'abbiano dimostrato quando Bergamo ha saputo superare per esempio le questioni legate a Cristiano Doni ancora di più mi ricordo molto e questioni legate a Andrea Masiello Andrea Masiello squalificato eccetera eppure tornato ad essere a Bergamo addirittura capitano e ad essere osannato come The Wall quando poi è andato anche giustamente a finire la carriera a Genova e quindi credo che i bergamaschi saprebbero andare oltre a questa cosa e forse è quello che chiedono credo che si aspettano per Natale per Capodanno il piccolo grande sogno qui ha dato un po' corpo anche l'intervista di Zapata a fine partita possa essere quello di vedere un Gomez che torna a essere quello che magari con una battuta su Instagram liquida il tutto e si torna a pensare e sono tante le cose da pensare al calcio giocato di Coppa Italia di Champions League e del campionato la programmazione televisiva questa sera sulla nostra emittente sul canale 88 alle 20 preghiera in famiglia cura dell'oratorio di Crusone alle 20 e 10 tempi supplementari alle 22 e 30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23 e 40 agri sapori alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario il telegiornale di Antena 2 tornerà in onda sul canale numero 218 alle ore 21 e 30 sul canale sportivo al numero 628 alle 20 e 10 trasmetteremo tempi supplementari alle 22 e 30 la partita di calcio in riprica Prada Lunghese e Juventina Covo Almanacco per domani martedì 22 dicembre il sole sorge alle 7 e 54 e tramonta alle 16 e 44 il culmine alle ore 12 e 19 minuti la durata del giorno è di 8 ore e 50 minuti la luna sorge alle 12 e 55 tramonta a 1 e 9 minuti del giorno successivo la fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 53% la chiesa ricorda San Flaviano e con questo è tutto vi ricordiamo che a seguire vi saranno il telegiornale sportivo con servizi sulle partite di calcio Albinoleffe Cararese della serie C e Caravaggio Breno della serie D e inoltre come sempre le previsioni del tempo grazie e buon proseguimento di serata a tutti grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.